Salve a tutti ragazzi sono ZWX oggi finalmente vi parlerò di nuove info su Red Dead Online e soprattutto sia di info ufficiali che di info tra virgolette se possiamo dire segrete più precisamente si chiamano leak su questo futuro multiplayer del nostro amato Red Dead Redemption 2 addirittura volevo anche farvi sapere che il dopatissimo che ha fatto scoprire queste informazioni segrete per aver combinato ciò a quanto pare si è beccato una denuncia da parte di Rockstar Games e mi sa che stavolta Rockstar Games sulle informazioni segrete fa sul serio ma comunque comunque lo so siete qua per sapere quando esce sto multiplayer di Red Dead Redemption 2 purtroppo non abbiamo una data ufficiale ok ve lo dico subito però il capo della Tech 2 Interactive Strauss Zelnick la Tech 2 Interactive sarebbe l'azienda che in qualche modo collabora o comunque gestisce Rockstar Games diciamo che se sotto c'è Rockstar Games sopra c'è la Tech 2 Interactive che in qualche modo gestisce o comunque collabora con diverse aziende di videogiochi tra cui appunto Rockstar Games precisamente l'8 novembre per chi non lo sapesse in un'intervista ha annunciato che la beta pubblica di Red Dead Online verrà pubblicata alla fine di questo mese sicché suppongo che la data di uscita di Red Dead Online sarà martedì 27 novembre comunque se non sarà quella sicuramente tra il 25 e il 30 vedremo il multiplayer dico martedì 27 novembre perché innanzitutto è la data più vicina alla fine del mese sarà già passato un mese dall'uscita di Red Dead Redemption 2 e inoltre sappiamo già da anni che o almeno sarà già passato un mese dall'uscita di Red Dead Redemption 2 e inoltre sappiamo anche già che Rockstar Games è abituata a pubblicare nuovi contenuti il martedì come ha sempre fatto anzi come ha fatto solo con GTA praticamente in questi ultimi anni sicché se vogliono continuare con questa tradizione il multiplayer verrà quasi sicuramente rilasciato martedì e il martedì più vicino alla fine del mese è appunto martedì 27 novembre questo chiaramente ragazzi è solo un mio pensiero perché in realtà non ho più la pallida idea di quale giorno possa essere esattamente il rilascio di Red Dead Online comunque state tranquilli poco ma sicuro alla fine del mese ci sarà perlomeno la beta pubblica di Red Dead Online che sarà ovviamente gratuita vabbè gratuita tra virgolette perché alla fine non è proprio gratuita a chi appunto possiede una copia di Red Dead Redemption 2 vabbè gratuita si fa per dire praticamente la cosa che mi fa strano è che appunto siamo all'8 novembre e non capisco per quale motivo Strozelnik non ha annunciato la data di uscita la data di uscita ufficiale di Red Dead Online e questo mi fa pensare se magari Rockstar Games sta pensando di cambiare giorno non ne ho proprio idea ragazzi non ne ho proprio idea dovete anche sapere che i giocatori di PlayStation 4 riceveranno prima questi contenuti che state vedendo in video di Red Dead Online rispetto ai giocatori di Xbox One e praticamente i giocatori di PlayStation 4 avranno l'abito fuori legge delle Grizzlies il cavallo arabo dopatissimo Sauro Rosso una cella Ranch Cutter in alligatore ed infine una revolver a doppiazione a azzardo passando invece alle informazioni segrete Red Dead Online riceverà inizialmente 10 proprietà qui c'è scritto che le proprietà costeranno tutte mille ma in realtà dovete sapere che il prezzo cambierà non appena multiplayer verrà rilasciato quindi tecnicamente non possiamo ancora sapere il prezzo esatto anche se a quanto pare il prezzo si girerà più o meno su quelle cifre e mille dollari sono tantissimi ragazzi l'avete visto anche voi giocando a Red Dead Redemption 2 nel 1899 veramente sono troppi la proprietà numero 6 è l'unica proprietà di cui attualmente conosciamo qualcosa e non sarebbe altro che una casa mezza rovinata in campagna o almeno questa è più o meno la traduzione italiana riguardo i veicoli invece anche questi non costeranno 500 dollari il prezzo ovviamente cambierà come detto prima e stiamo parlando di carri trainati da cavalli una carrozza piccola due tipi diversi di vagoni per il cavallo tra cui una con il mitraliatore Gatling chissà quanto diamine costerà preparatevi il rene da mettere vendita per permettervi l'online di Red Dead Redemption 2 un vagone per i rifornimenti un vagone per i trasporti ed infine un vagone da guerra i cavalli che vedremo in Red Dead Redemption Online oltre che all'arabo sauro rosso saranno anche un cavallo ungherese di sangue misto un foxtrotter del Missouri un olandese a sangue caldo ed infine il cavallo turcomanno almeno questi saranno alcuni dei tanti cavalli che riceveremo nel multiplayer il duopattissimo Fireboid 78 ha anche scoperto diversi file che ci fanno capire varie cose interessanti riguardo il multiplayer in questi file abbiamo delle scritte come informare la legge ovviamente duelli poi faida leader della faida abilità nel fare il predatore ed infine alcune cose sull'osservare i giocatori come anche classifiche l'abilità del predatore potrebbe essere una cosa simile all'occhio dell'aquila non ho idea di come possa funzionare online però sicuramente questo ci dà la prova che appunto potremo cacciare animali in Red Dead Online dalle scritte della faida queste cose qui insomma possiamo capire che potremo creare bande e addirittura creare delle guerre tra bande con un altro leader o addirittura informare la legge dei crimini che altri giocatori hanno commesso attorno a noi infine l'ultima informazione finale è che Rockstar Intel ha scoperto che in Red Dead Online avremo missioni, gare e ditmatch abbastanza scontato però meglio specificarlo poi ci sono anche tantissime altre informazioni di cui ho già trattato su Red Dead Online comunque in breve praticamente avremo diverse modalità tra cui il cattura e il bottino rianima e sopravvivi che sarà una specie di possiamo dire cerca e distruggi di Call of Duty senza però piazzare bombe o addirittura di una modalità Battle Royale io penso che però la modalità Battle Royale verrà rilasciata attraverso un'espansione perché è una cosa che può attirare veramente tantissimi giocatori e non penso che Rockstar inserirà un contenuto così grande fin dalla prima uscita di Red Dead Online comunque se volete sapere altre informazioni su questo multiplayer troverete un altro video qua sotto in descrizione chi come me ha comprato la Ultimate Edition in Red Dead Online riceveremo anche degli abiti bonus come l'abito da cacciatore d'Italia di Black Rose o abiti da uomo di legge di Copperhead il puro sangue inglese sauro nero con tanto di sella da cutting high planes un accesso gratuito al tema sopravvissuti per l'accampamento le armi della Special Edition incluse anche su Red Dead Online ed infine un bonus sui ranghi dove tutti i giocatori avranno la possibilità di salire di rango più velocemente rispetto ad un giocatore che non ha la Ultimate Edition fino al rango 25 volendo possiamo scoprire anche piccoli dettagli su questo multiplayer attraverso i trofei dove questi trofei appunto richiedono di creare oggetti vendere oggetti al macellaio raccogliere piante o completare una missione free roam piccola curiosità GTA V ha raggiunto le 100 milioni di copie vendute mentre Red Dead Redemption 2 ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo in una sola settimana ditemi un po' la vostra tra i commenti su questo gioco multiplayer ho voluto fare questo video diciamo giusto per farvi avere una visione generale sul multiplayer di Red Dead Online a meno che non ci saranno informazioni grosse non porterò video di Red Dead Online prima del suo rilascio poi chiaramente quando annunceranno la data di uscita ufficiale state tranquilli che sarò il primo a comunicarvela da Zwillix è tutto noi ci sentiamo al prossimo video